allora buongiorno ci faremo un dolcino con con una mela grattugiata poi mettiamo un uovo due cucchiai di zucchero due cucchiai due cucchiai di yogurt e poi mettiamo due cucchiai di olio di semi quindi sbattiamo il tutto mettiamo anche una bustina di vaniglia di zucchero vanigliato e poi mettiamo un cucchiaino di lievito per dolci quindi mescoliamo bene e poi aggiungiamo 150 grammi di farina setacciata allora abbiamo aggiunto la mela adesso aggiungeremo anche della frutta mista frutta di bosco è un misto di frutta un tropical mix aggiungeremo questo aggiungeremo il zucchero vanigliato e aggiungeremo anche il lievito metteremo un cucchiaino di lievito insieme alla farina la farina sarà più o meno 150 grammi comunque vedrete poi dalla consistenza perché dobbiamo fare poi delle delle ciambelline col buco allora abbiamo messo mezza bustina di lievito pan degli angeli che queste 16 grammi quindi 8 grammi di lievito quindi adesso aggiungeremo la farina e mescoleremo fino ad arrivare alla consistenza che vogliamo noi ok allora abbiamo finito di impastare abbiamo messo sotto la pellicola adesso la copriremo e la facciamo lievitare un pochino ma basta anche un'oretta la farina che abbiamo utilizzato è questa qui della caputo allora abbiamo abbiamo steso col mattarello la nostra il nostro preparato abbiamo fatto la ciambellina eccola qua e andiamo avanti ed ecco le nostre frittelle che sono già pronte ed ecco le nostre ciambelle sono pronte vi ricordo di iscrivervi al canale youtube e di seguire il gruppo ricette nazionale e internazionale con video ricette tanti saluti e alla prossima ricetta